Cari amici di Wine Channel, oggi una nuova puntata ricca di eventi, tutti da raccontare in compagnia di Valentina Tenaglia e Gianluca Marchesani. Noi abbiamo convertito il mondo al vino, è una cosa straordinaria, l'Europa oggi in fondo si fonderebbe su una parola, l'unica che ci unisce che è la parola vino. Con un unico marchio Italia, visibile nel mondo, messo su tutti i prodotti che rispondono ad un disciplinare molto semplice di tre regole, prodotti fatti in Italia. Ci sarà uno spazio dedicato molto grande proprio alle degustazioni, dovranno essere sicuramente il cuore di tutto quello palpitante, di tutto quello che accadrà intorno. Mettendo insieme i due aspetti, i due corni di questo grande tema dell'agroalimentare, il vino in primis che è il prodotto che esportiamo di più italiano nel mondo. Il vino italiano è declinato in tammineria di sfaccettature, da nord a sud, i vitigni, i territori e vanno raccontati a chi ha conoscenza e consapevolezza. Quindi un lavoro meticoloso, un lavoro che ci aspettiamo ci darà grandi soddisfazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono abbastanza intensi e abbastanza piene, avranno inizio con venerdì 7 novembre con la Bio e Dinamica, che è un evento dedicato a aziende biologiche e biodinamiche, sono un centinaio. E quindi insomma la cultura del vino prende ormai piede un po' in tutto il mondo e credo che sia una risorsa importante, sicuramente una delle risorse più importanti. E quello che porto cos'è? Porto la consapevolezza che ogni paese ha un gusto diverso, una tradizione diversa e un gusto, è un costume diverso e quindi dimmi che vino bevi e ti dirò un po' chi sei. Grazie a tutti. Grazie a tutti.